Caro pubblico, vedo molti giovani come al solito. È un film che viene molto spesso trasmesso perché piace ai giovani e ai meno giovani. L'importante è che in genere ti chiedono se ricorda un episodio. È un film senza episodi perché è un film che è scorso molto felicemente. Eravamo tutti amici, era una bella sceneggiatura. C'era un regista giovane e bravo di Dorisi e soprattutto eravamo felici di farlo. Sai com'è quando lavori fai una cosa che ti piace, che non è frequente, ma era proprio un'unione perfetta. Sordi in forma e anche io ero in forma quando mi sono inventata. Guarda, cosa fai? Cretisetti? È rimasto famoso. Ciao a tutti, divertitevi.